Sabato 10 aprile la Polizia di Stato festeggia l'anniversario numero 169 della sua fondazione col tema Esserci sempre, proprio a sottolineare la vicinanza e anche il servizio ai cittadini. Naturalmente si tratta di una celebrazione in forma ridotta a causa dell'emergenza sanitaria. Noi guidati dalla telecamera di Luca Corneli siamo stati a Chieti e a Pescara. Devo dire che ricordare la Polizia di Stato non è soltanto segnare un anno in più sul calendario. Ricordare la Polizia di Stato significa ricordare che c'è una delle ossature principali della nostra democrazia che ha bisogno di essere sentita vicina dai cittadini. L'esserci sempre, che lei ha ricordato giustamente e la ringrazio, che è diventato un motto di questi ultimi anni, noi ci siamo sempre, chiamateci però, teneteci presenti, non mi dimenticate che noi ci siamo per voi. Oltre alla festa c'è da ricordare una legge vecchia di 40 anni ma ancora molto attuale che ha riformato, ha ridisegnato la Polizia di Stato. Quali sono i punti fondamentali da ricordare? Una legge importantissima che ha comportato la smilitarizzazione del corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ha comportato la sindacalizzazione, la parità di genere nei ruoli e tante altre innovazioni, tra tutte quelle della pluralità delle forze di polizia ricondotte alle figure di coordinamento delle autorità provinciali e delle autorità nazionali di pubblica sicurezza, che sono la vera forza di questa riforma, ancora oggi sempre più viva, sempre più attuale e al passo con le esigenze dei tempi. Esserci sempre, si diceva, tanto più in questo momento particolare di emergenza, in cui aumenta il bisogno per i cittadini di essere aiutati. E allora a Pescara, in strada comunale Piana, è stato aperto un nuovo punto vaccinale, come conferma il questore Liguori. La Polizia di Stato ha voluto che ci fossero esclusivamente delle persone oltreottantenne, degli anziani, in queste linee di vaccinazione. Anche persone fragili? Persone fragili ed anziani. Quegli anziani di solito sono quasi tutti fragili. E in ogni caso vogliamo che la città di Pescara si ricordi della Polizia quando sarà passata finalmente questa brutta pandemia, come coloro i quali hanno dato il proprio fianco, il proprio aiuto, così come il nostro stemma araldico prescrive, quello di prestare il soccorso pubblico con le torce che sono raffigurate sul nostro emblema, sul nostro stemma. Quello significa il soccorso pubblico, quindi soccorriamo la popolazione in un momento di bisogno come la pandemia. Noi abbiamo dato questo tipo di disponibilità per tre mesi, quindi dal 10 aprile, il giorno dell'anniversario della Fondazione, fino al 10 di luglio, per tre giorni a settimana. Ricordo a tutti che è personale che fa altri compiti ed in via prioritaria, spesso anche volontaria, poi si dedica anche a questa attività. Quindi lunedì, giovedì e venerdì, dalle 8.30 alle 13.30 si procederà alla vaccinazione per le categorie fragili ed anziane.